Ma al tempo devastante a Brindisi ci troviamo in regione Puglia il 9 luglio, quindi l'altro ieri, era per l'appunto martedì, si è scatenato l'inferno su questa bellissima città pugliese per eccellenza. Un maltempo che è stato giudicato come incisivo su tutta la costa e al nord del capoluogo pugliese si sono creati notevoli disagi, l'acqua in alcune vie, la torre di San Bento a Sibina è giunta addirittura negli scantinati, gente per la strada, a proteggere le proprie abitazioni, quelle soprattutto al piano di strada. La forza del vento pensate che riuscite ad abbattere un albero dinanzi al negozio chiamato io bimbo nella parte industriale di Brindisi, scoperchiando il tetto del supermercato chiamato famiglia e guarda di partire paradiso. Ha creato ovviamente dei disagi alla viabilità, ha lagato i sottopassi nella strada Pitacchi e l'area della questura. Grazie a voi, un saluto caro al prossimo video.